andrà tutto bene puntata numero 197 oggi è venerdì 8 maggio 2020 e sono le 14 e 51 gioachino onorati e come di consueto antonella betti bene ritrovata antonella buon pomeriggio gioachino grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori antonella ricordiamolo assistente sociale e giornalista da poco giornalista iscritto all'albo dei pubblicisti della regione lazio esattamente antonella in modo particolare adesso impegnata anche nella consegna di pacchi alimentari come sta andando allora io visto che hai toccato questo argomento e ti ringrazio grazie al tuo intervento e a questi spazi che mi stai dando un collega mi ha girato un caso urgente e io più tardi andrò a un banco alimentare di roma c'è quello di claudio lozzi a prendere il pacco per questo anziano sta andando molto bene non sapevo di essere così seguita invece ti do ragione perché molte persone fanno riferimento alla mia associazione sono anche molto contenta perché anche questo collega fa parte del consiglio dell'ordine delle assistenze sociali quindi si vede che stanno apprezzando anche il mio intervento attivo e di questo sono molto contenta perché vuol dire che stiamo facendo una giusta informazione lo dico anche nell'altra faccia mia che è di neo giornalista pubblicista e allora ricordaci ricordaci qual è l'associazione allora help e first aid minori e famiglie roma onlus è facilissimo www.assistenza sociale lazio.com si va sulla piattaforma nell'area contatti ci sono le mail si manda come oggetto banco alimentare si allega l'ise e il documento di identità e automaticamente si viene messo in rete perché questo collega mi ha scritto questa mattina tarda mattinata voglio dire io adesso alle 4 vado a consegnare il pacco preso e consegnato quindi voglio dire è una macchina organizzativa che funziona ma ti ringrazio perché mi hai dato tu la possibilità nelle prime interviste dove mi avevi invitato nel tuo spazio di andrà tutto bene devo ammettere che molti italiani hanno visto allora questa questa finestra che c'è sul sociale sono molto contenta ti ringrazio tanto come giornalista hai fatto qualche studio anche sulla nostra costituzione ebbene sì io ho raccolto al tuo invito dell'altra volta e mi sono praticamente maggiormente documentata sulla storia della costituzione italiana perché in questo momento come abbiamo detto stiamo regredendo e quindi ho approfondito la nostra costituzione nata il 17 marzo del 1861 e come direbbe meuccio ruini presidente della commissione per la costituzione questa carta che stiamo per darci è essa stessa un lino di speranza e di fede infondate ogni timore che sarà facilmente di velta sommersa e che sparirà presto no abbiamo la certezza che durerà a lungo e forse non finirà mai ma si verrà completando adottando a tutte quelle che sono le esigenze del dell'esperienza storica e così avverrà la nostra costituzione sarà gradualmente perfezionata resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana noi stessi e i nostri figli rimedieremo alle lacrime e ai difetti che esistono e sono inevitabili con questo principio venne fondata la costituzione che al titolo primo tocchiamo un tema che adesso molto scottante perché molte persone hanno bisogno del pacco alimentare l'articolo 1 del test approvato proprio dalla commissione della costituzione afferma che l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità la costituzione a cui tu hai fatto riferimento poco fa riguarda quella del 17 marzo 1861 che ovviamente alla base della nostra costituzione che poi è entrata in vigore nel 48 quella è la costituzione con la quale è stato proclamato il regno d'italia esattamente io ho approfondito quella che c'è anche sul sito del senato che parte proprio dalla questo diktat di dalle origini dalle origini quindi dall'origine dell'italia non della repubblica italiana ma proprio dell'italia e poi adesso un tuffo quindi dal 1861 al 1948 cioè quando entra in vigore la nostra costituzione esattamente che all'articolo primo come dicevo cita che l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme nei limiti della costituzione io qui non so te ma avrei qualcosa da dire nel senso perché almeno nella fase attuale no il primo articolo della costituzione fonderebbe diciamo così perché oggi c'è carenza di lavoro e stiamo vedendo che con questa opposizione anche alla camera e al senato non è che abbiamo molto potere decisionale noi del popolo quindi comunque sia sì l'italia è sicuramente una repubblica su questo non ci piove è passata dalla monarchia al finalmente all'universalità quindi alla è andata via la 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 vecchia dicitura ma è una democrazia rappresentativa cioè noi almeno io personalmente mi sento un elettrice tappa a buchi che serve solo si sono resi con mi sono resa conto che noi serviamo solamente al bisogno e questa è una cosa tristissima perché deve essere davvero il popolo sovrano come in questo momento il presidente del consiglio dei ministri ci ha messo davanti dei diktat statici e noi dobbiamo eseguire un qualche cosa che su questo molti senatori hanno ragione non hanno non hanno avuto possibilità di far passare degli emendamenti quindi io non so te ma su questo primo articolo nella costituzione che siamo un governo una repubblica scusami democratica fondata sul lavoro obietterei perché c'è un tasso di povertà che sta arrivando alle stelle che infatti l'abbiamo più volte detto che la nostra costituzione non è fatta per i giuristi per i politici per i giudici costituzionali per i professori di diritto costituzionale di diritto pubblico di diritto amministrativo di diritto penale tutti i diritti che vuoi ma è fatta per ciascuno di noi ed è ciascuno di noi che si rivolge e ciascuno di noi la deve sentire propria e a quanto pare c'è uno scollamento almeno tanto nell'abbetti e l'articolo 1 questo è quello che che mi sembra di capire lo scollamento sì perché in questo caso mi sembra che la democrazia e il potere del popolo non è la priorità ma mi sembra l'eccezione almeno per quanto vedo io sul campo ed è una cosa che lo dico tristemente giochino sai perché perché comunque sia il lavoro dovrebbe essere un diritto e un dovere di tutti cioè noi siamo un paese europeo che però non applica come Francia Spagna e Germania che mette molti prodotti del supermercato a un euro per sensibilizzare la povertà io l'ho visto fare solamente in un supermercato qui che insomma è una catena multinazionale che siccome è di una catena non italiana applica questa cosa non è che io sono cioè mi piacerebbe ritornare ad avere il lavoro per tutti ad avere una soglia di sopravvivenza per tutti e lo dico con molto rammarico perché non sempre i nostri diritti vengono tenuti in considerazione quindi ho fatto un'analisi prettamente sociale e molto introspettiva non è non ho dato giudizi di valore nel senso che ho riportato la dicitura perché l'ho approfondita dal senato della repubblica però sinceramente senza il lavoro non c'è né il pregresso personale né quello sociale cioè quindi è una situazione drammatica che ho detto sì è molto bello come articolo no come dici tu è bello è una bella linea guida però lo stato dovrebbe essere garantista non assenteista perché ci deve essere sempre un fondo sociale che dia più più veramente più aiuti non che li tolga o che uno li debba distribuire barcamenandosi chissà dove quindi questo è la mia la mia riflessione che molto bello come articolo ma torniamo a essere un popolo sovrano che dalle elezioni alle cose che non vanno cioè noi ci interpellano in queste in queste queste campagne elettorali ma poi di fatto in concreto sono pochi i senatori che fanno e io lo dico con condizione di causa perché ho avuto la fortuna di avere un contatto diretto tutt'oggi con la senatrice binetti e io so fattivamente quello che lei fa come molti altri senatori e come molti altri onorevoli però sto vedendo da cittadina che in questo caso mi sembra che ci sia un potere assoluto diverso e non è giusto perché se siamo una repubblica democratica la democrazia è totale non è che solamente torniamo a un popolo cioè torniamo al sovranismo a posto c'è una dittatura uno decide e basta però mi sembra un controsenso questo giornalisticamente parlando perché molti dicono il popolo conta ma qua mi sembra che ha deciso di prendere solo il consiglio dei ministri il presidente del consiglio dei ministri che viene lì dice parla poi sempre all'ora di cena magari uno si vuole rilassare un pochetto dopo una giornata quindi è una riflessione che io ho fatto pur rimanendo tranquilla perché io ripeto ho la fortuna di seguire la senatrice binetti direttamente quindi molte cose che non avevo capito non lo nego che magari le ho chieste in approfondimento comunque permettimi anche di mandare i miei saluti a paola binetti senatrice della repubblica italiana sarà fatto l'articolo 2 andando avanti la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle forme sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale posso fare il commento certo allora è indubbiamente uno dei più importanti articoli a livello sociale a livello della costituzione italiana infatti con esso la repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti dell'uomo che sono stati però spesso violati nell'arco di tutta la storia non esclusa quella italiana basti pensare alle persecuzioni degli ebrei durante il nazifascismo il riferimento iniziale come successivamente nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un tipo di articolo gius naturalistico in che senso che lo stato riconosce i diritti che gli presistono e di cui ogni persona è titolare fin da quando viene al mondo inoltre tali diritti sono inviolabili o così dovrebbe essere ma da assistente sociale e da bambina strappata ti dico che non sempre è così purtroppo e come me ce ne stanno nel sommerso tante persone che vedono quotidianamente violati i loro diritti e quindi ti stavo dicendo c'è quindi un limite invalicabile per i poteri pubblici che potranno eh collegge limitarli ma mai eliminarli cioè questo è un articolo che dovrebbe essere la sacra bibbia per tutte le persone perché è il riporta alle violazioni adesso mi viene in mente un'altra violazione dei diritti umani la Shoah l'olocausto ehm lo sterminio nazista nei campi di concentramento e più in generale eh eh dovremmo eh evitare il più possibile di ritornare ai regimi totalitari del passato capisci cioè noi siamo in una guerra batteriologica ma quest'articolo dovrebbe essere tenuto maggiormente in considerazione perché eh nel passato e quotidianamente in maniera subdola ancora oggi vengono compiute gravissime sistematiche e continuative violazioni dei diritti di tutti gli uomini di cui io sono porta a bandiera per una cosa ma come me se uno va a scavare nel sommerso oh quante ce ne stanno e sono cose veramente gravissime in nome anche sempre di interessi che sono di natura economica di natura totalitaria totalitaria scusami vi è inoltre richiamato anche il conseguente principio personalista per cui l'uomo non è un individuo separato e in competizione con gli altri ma è esattamente un essere sistemico relazionale in continuo interscambio e relazione che si sviluppa che pensa che coopera nelle formazioni sociali nella realtà sociale che sono scuola famiglia amici lavoro associazione cioè noi non siamo statici non siamo oggetti siamo soggetti pensanti che dobbiamo poter dire nel nostro piccolo la nostra non dovremmo subire e basta esiste infine una necessaria e stretta correlazione fra i diritti ai doveri per cui tutti sono stati chiamati ai doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale e qui c'è il principio che applico tutti i giorni il principio solidarista su cui si basa tutta la costituzione e che io applico particolarmente la mia associazione fa capo all'articolo 2 per quanto riguarda la solidarietà l'uguaglianza sociale nessuna discriminazione antonella ti do una brutta notizia perché abbiamo soltanto 30 secondi e siamo soltanto all'articolo 2 perfetto allora sei giornalista e quindi sai meglio di me quanto è in grado il mio compito un saluto generale a tutti ho voluto dare questa diciamo questa prima sintesi dei due se tu vorrai mi inviterai la mia analisi era solamente sul batterci per l'uguaglianza e la solidarietà ai diritti umani e sociali non c'è dubbio perché lo ripeto all'infinito e lo ripeterò appunto sempre quindi la costituzione non è degli avvocati non è dei magistrati non è dei professori non è dei giudici costituzionali ma è la nostra e di antonella abetti e di tutti noi come di giochino onorati grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.